La scelta è infatti ricaduta su Padova per due motivi principali. Il primo è perché Moriodo ha la voglia di fare questo inutile spezzone. E il secondo è perché alle brutte a 35esimo se scappa qualche bestemmione passeremo inosservati tra la popolazione locale. Oggi buongiorno in corsa direttamente allo stadio Euganeo di Padova dove il tempo clemente ci sta risparmiando l'acquazione che ci ha promesso, diciamo. Me ne trovo praticamente in mezzo a un iscritto del passatore e a uno in cerca di personal best. Quindi sa che oggi mi faccio l'affari miei e mi metto dietro a loro. La qualità di bellezza di questi peser è incommensurabile. Chi è il più bello tra voi? Non ci hai provato. Non ci prova. E' il Navo. Grande Luca. Bello. 12.500, sono al fondo i fantastici colli e ogani. Il tempo sta peggiorando visibilmente ma noi non ci preoccupiamo di nulla. Ci divertiamo. Passaggio in mezzo a Maradona trainati da Simone con una furia pazzesca. Passati con tempo direi ottimo. Il 23esimo chilometro si gira verso Abano Terme ma passaggio suggestivo all'abbazia di Praia dove il nostro amico ci dice che i nostri frati benedettini sono... E' il keniani che ha bevuto tutto. Sanno più pure chi di noi. Passaggio al trentesimo ad Abano Terme, ragazzi, bellissimo ma è veramente un posto fantastico. 35esimo chilometro e una leggera pioggiarellina ci ha tornato a fare compagnia ma noi porti anche dell'alcol immagazzinato ieri sera possiamo garantire ancora un po' di propulsione. Quarantesimo chilometro entrati nella storia del Sanso e io personalmente non ho scadito ancora si tratta di San Pantone o Alessi Lava. Dai dai che è l'ultimo chilometro e è uscito pure il sole. Alessi siamo, ultimi metri, ultimi metri, passi in finale. E' uscito anche un fantastico sole qui a Padova. Io al collo ho una bellissima medaglia che per chi non lo sapesse è la rappresentazione del bacio di Anna Emane. e Gioacchino contenuta nell'affresto nella Cappella degli Strovegni. 42.195 volte grazie Padova per questa bellissima giornata. Grazie. 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 Grazie.